E' giallo a Milazzo dove ieri a mezzogiorno è stato trovato il cadavere carbonizzato di una persona. Il macrobo a rinvenimento è stato effettuato nella frazione Bastione, in una zona impervia denominata Pezza del Pioppo, alla periferia della città. Il cadavere, completamente sfigurato e irriconoscibile, non è stato ancora identificato. Sul posto ne intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno. Il cadavere è stato ritrovato, dopo una segnalazione, nel ciglio di un fondo agricolo. Subito è stata avviata una ricerca sulle persone scomparse nell'ultimo periodo. Il corpo, da quanto si apprende, interamente carbonizzato, si presentava in uno stato che non ha permesso neppure di appurare se la vittima fosse un uomo o una donna e di stabilire l'età. Il fuoco ha devastato il corpo e anche il viso, non permettendone il riconoscimento. Sembra esclusa al momento l'ipotesi del suicidio, che era stata avanzata inizialmente. Gli investigatori hanno anche avviato le indagini e probabilmente sentiranno le persone che vivono nell'aria del rinvenimento del cadavere. Solo l'autopsia potrà chiarire il giallo e consentire l'identificazione del corpo che, dopo i primi ridevi, è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale di Milazzo per un primo esame esterno. Massimo il riservo degli inquirenti sull'indagine. Grazie. Grazie.